Ciao carissimi, oggi andiamo a vedere insieme un altro prodotto della CECOTEC. Come sapete noi abbiamo testato tantissimi prodotti della CECOTEC che utilizzo tutti tutti i giorni e mi trovo veramente molto bene. Vi lascio nell'info box il link se volete andare a dare una sbirciata sullo shop e anche un codice sconto che potete utilizzare, un piccolo sconto se volete fare degli acquisti. Non vi faccio vedere questa parte perché proprio sulla brocca, sulla caraffa, c'è l'adesivo con il mio indirizzo e non mi sembra il caso. Allora, questa è una caraffa che serve per purificare l'acqua e si chiama Acqua Nature 2400 Active Pro. Andiamo a vedere, tolgo il sigillo che come sapete mi piace tantissimo questa cosa e andiamo a vedere all'interno. Eccola qua, c'è sempre l'azzurrino caratteristico della CECOTEC, veramente carissimo, vediamo la brocca. All'interno della confezione, oltre a trovare la brocca appunto, troviamo anche il manuale di istruzioni. Che è vero che questo è semplice, diciamo, è una brocca, non è particolarmente complicata, però è sempre bene andarlo a leggere. Nel manuale di istruzioni abbiamo il montaggio del prodotto, ci dice di tirare con entrambe le mani la linguetta, andare a togliere il coperchio, abbastanza facile, intuitivo, andare a togliere questa parte e troviamo i filtri. Ah, ce ne abbiamo tre di filtri, ottimo, perché comunque il filtro va cambiato. E la cosa importante è questa cosa qua, che qui abbiamo un display dove spingiamo una volta in funzione, vedete, 00, e ci dice quanto è ancora il tempo di vita del nostro filtro e quando è il tempo di cambiarla. Io avevo una caraffa, noi a Roma abbiamo un'ottima acqua, veramente eccellente, eccezionale, buonissima, forse una delle più buone al mondo, però è piena di calcare e a volte pure di cloro. Quindi, e si sente tanto, il mio bimbo beve solo quella, non gli piace quella in bottiglia e devo dire che a me anche urta un po' andarla a comprare avendoci l'acqua così buona. E qui, giustamente, nel libretto di istruzioni ci dice questo prodotto filtra l'impurità dell'acqua del rubinetto migliorando in questo modo il suo sapore, odore e colore. Consente un'alternativa più economica, decisamente più economica, e rispettosa del medio ambiente rispetto all'acqua imbottigliata. Ovviamente ci abbiamo pure meno scartola, quindi ci dice di andare a pulire la caraffa con del sapone neutro e senza paglietto o agenti abrasi perché sennò si va a rovinare e una volta pulita la caraffa andare a sciacquare sotto l'acqua per 10 secondi il filtro che andiamo a vedere. Perché tanto io la voglio usare? Eccolo qua il filtro. Guardate. Ah! marracas. E questo si mette qui dentro. C'è proprio l'alloggio, eh? Eccolo qua. Del filtro qui. Lo vado a mettere dopo. Vado a lavare tutto e continuiamo a vedere questa caraffa fantastica. Ho lavato tutte le parti della mia caraffa, adesso vado a inserire saldamente, come mi viene detto, ma è facilissimo però. Ecco qua. Nella vano metto all'interno della mia brocca e metto il coperchio. Poi vado a riempire tutta questa parte. Piano piano questa verrà filtrata e scenderà nella parte inferiore. La mia caraffa, senza il filtro, senza questa parte, ha una capienza di 2,4 litri con il filtro di 1,4, quindi un pasto ce lo facciamo. Il filtro ha una particolarità. ha quattro strati e ve lo faccio vedere qui sulla scatola perché si vedono veramente molto bene. Uno strato è microfibra che cattura le particelle più grandi. Uno strato è di carbone attivo e argentato che elimina fino al 98,3% del cloro, l'odore e il sapore dell'acqua e la possibile proliferazione di batteri, che è fondamentale. Altra caratteristica è la resina di scambio ionico, cattura i metalli pesanti e mantiene minerali propri dell'acqua. Questa è fondamentale, un'altra parte del filtro. E l'ultima è microfibra che cattura le particelle più piccole. Quindi, passando per i quattro strati, la nostra acqua diventa un'acqua bevibilissima e come quella in bottiglia. Un'altra caratteristica da non sottovalutare è che entra in tutti o quasi i ripiani del frigorifero, almeno nei frigoriferi standard. Il coperchio, come avete visto, è estraibile e, importante, appunto, l'indicatore LED di vita utile del filtro. Adesso io vado a mettere l'acqua, vado a dirvi quanto tempo ci mette per filtrarla tutta e, com'è il sapore, faccio fare due giri. Uno lo mando così a vuoto e nel secondo lo provo. Ci ha messo esattamente 2 minuti e 31 secondi, quindi, voglio dire, anche durante un pasto, se finisce l'acqua, possiamo tranquillamente andare a riempire. Faccio fare il secondo giro e l'assaggio. Ragazzi, vado ad assaggiare l'acqua purificata con questa brocca. Vado, eh? Mamma mia, è buonissima! C'ha un sapore completamente diverso, proprio buona. Sembra quella che si beve in montagna. Buona, buona! Anche questo prodotto super approvato. Stasera lo faccio provare anche al mio piccolino, che è un buon gustaio per quanto riguarda acqua. Lo vado a mettere in fresco, così già la troviamo bella fresca fresca. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome a casa di Apicio. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Se avete dubbio, perplessità o curiosità su questa caraffa, fatemi sapere qui nei commenti. Un abbraccio, buona giornata, Ciao, ciao!